Un libanese depositò il nome prima di noi, noi non sapevamo che poteva diventare un prodotto commerciale e allora questo qui depositò prima di noi e quindi quando poi noi proibimmo questo signore di pubblicare il cacao meravigliato perché volevamo farlo con la signora Agnelli che voleva dare in beneficenza la cosa e allora questo qui ci portò in tribunale, insomma facevamo il processo e devo dire che al processo insomma io mi sono sempre divertito molto ai processi perché il giudice stava dalla parte mia il giudice sapeva a memoria tutte le cose di Nino, naturalmente no, faceva fede il fatto che eravamo partiti noi prima con il cacao meravigliato eccetera. No, forse il tribunale nel quale mi sono divertito di più, più chiudiamo, ma c'è nel libro, è quando sono stato processato per il film Il Papocchio e andai con Benigni, fumo processati per offesa alla pubblica religione, che non era vero perché avevamo scritto un film, adesso il film è stato sdoganato dall'Opus Dei, è considerato un film quasi cattolico però fumo portati davanti al giudice in felisi, che era un giudice severissimo e naturalmente disse qual è la vostra cosa? E io dissi tutte le cose che avevamo pensato con De Crescenzo che aveva scritto con me la sceneggiatura e che non eravamo messo, cominciando dal turibolo pieno di mariguana che facendo così faceva tutta la chiesa imbazzita eccetera.